cari amici di italiano per tutti abbiamo già parlato in una lezione precedente di san marino se ricordate san marino è uno di quei due stati che sono presenti nel territorio italiano e l'altro è la città del vaticano la città del vaticano come sapete è quella territorio quella parte del territorio in roma esattamente dove il sovrano in qualche modo è il papa la religione quella cattolica e diciamo che è il territorio che appartiene al pontificato in qualche modo andiamo a vedere come è composto e come funziona come mai è lì la città quella che si chiama città del vaticano lo stato della città del vaticano all'interno del territorio italiano vi sono due stati indipendenti nei quali si parla la lingua italiana vi metto un link qui allo stato di san marino se non avete ancora vista la lezione così potete potete vederla uno di questi due è la città del vaticano il territorio di questo stato si trova in lazio e nel cuore di roma è una piccola parte di territorio della città di roma la sua estensione di 0,44 chilometri quadrati e la popolazione è di poco più di 600 abitanti quindi molto pochi è un piccolo paese di campagna diciamo i suoi abitanti si chiamano vaticani il vaticano in realtà è uno dei colli di roma la diciamo la città del vaticano ha preso il nome dal colle esattamente come c'è poi il quirinale il viminale sono tutti i colli di roma si tratta dello stato più piccolo del mondo sia per area che per popolazione la lingua ufficiale è l'italiano ovviamente essendo circondato dall'italia non possono fare altro che non possono abitudine la storia è stato sempre l'italiano e nessun'altra lingua ma la lingua ufficiale della santa sede è il latino cioè ufficialmente la lingua che è riconosciuta come la lingua ufficiale della della dello stato è il latino poi in realtà parlano parlano l'italiano il suo territorio in parte circondato da mura comprende la basilica di san pietro quella che vedete qua sopra che ovviamente la più nota la piazza antistante dove c'è l'obelisco eccetera eccetera il colonnato quindi circondata dal famoso colonnato di san pietro il palazzo apostolico quello che è sul lato destro guardando la basilica che è la residenza ufficiale del papa il palazzo del governatorato che è la sede amministrativa delle poste vaticane le poste vaticane hanno stampano i loro francobolli talvolta escono dei francobolli nuovi ovviamente come anche in italia in tutti gli altri stati i musei vaticani andate se vi capita di essere a roma di trovarvi a roma visitate roma perché molto bella ma visitate i musei vaticani perché penso che siano in italia chiamiamola così anche se poi abbiamo detto che un altro stato però in italia siano tra i tre o quattro musei più belli da visitare i giardini vaticani alcuni altri edifici minori ovviamente il territorio molto piccolo quindi circondato in parte da mura come abbiamo detto quindi le strutture sono poche l'origine della città del vaticano come stato indipendente risale al 1929 allora come sapete l'abbiamo detto in un'altra lezione anzi vi vado a linkare qui la lezione sul risorgimento andatevelo a vedere perché parla della storia del 1800 fino ai giorni nostri e descrive quali sono stati i rapporti anche tra la costituzione dell'italia e l'italia e il regno d'italia insieme i rapporti con con la santa sede con la con il vaticano stesso ovviamente la come si sa per circa mille anni i papi quindi il territorio del papato hanno occupato metà italia quindi una buona parte d'italia fino ovviamente alla unione d'italia e alla breccia di portapia quando ovviamente il territorio diciamo del papato si è ristretto in una piccola zona che ovviamente era quella della della città del vaticano ma nello specifico la fondazione diciamo la ufficiale della città del vaticano come uno stato indipendente risale al 1929 in quell'anno fu stipulato un trattato tra il regno d'italia vittorio emanuele terzo e la santa sede e cioè i patti lateranensi erano delle regole di convivenza in qualche modo con tra l'italia tra il regno d'italia e lo stato lo stato pontificio quindi la città del vaticano con questo accordo si stabiliva l'indipendenza dello stato del vaticano dal regno d'italia quindi si definiva che erano due stati completamente diversi e si riconosceva alla santa sede l'autorità di governare su esso quindi la santa sede governava sul territorio che era stato ben definito dai patti lateranensi nell'11 febbraio del 1929 dall'anno della sua fondazione la città del vaticano è una monarchia cioè qualche modo diciamo che il papa è un monarca è come se fosse un re diciamo ha un potere abbastanza forte ecclesiale però con a capo il papa la bandiera della città del vaticano è composta da due bande una gialla e una bianca questi due colori rappresentano l'oro e l'argento i due metalli che compongono le chiavi di san pietro come sapete san pietro è stato il primo fondatore qualche modo dopo gesù cristo della della cultura della religione cristiano cattolica e ovviamente è anche identificato con le famose chiavi per il paradiso quindi il momento in cui si muore si arriva di fronte san pietro e luce aprirà con le chiavi il paradiso allora nel nella della bandiera questo lato della bandiera vedete che ci sono due chiavi incrociate una dorata e una di argento i due metalli che compongono le chiavi di san pietro il simbolo del papato questa è una storia della cultura cristiana la raffigurazione delle due chiavi incrociate e sormontate sopra le due chiavi vedete che sono sormontate dalla tiara che è la corona papale compare sulla banda sulla parte bianca della bandiera quindi il giallo e il bianco identificano con questo simbolo delle chiavi della tiara identificano la bandiera del della città del vaticano della del papato il vaticano emette i propri franco molli come ho già detto prima e ha una sua moneta che è l'euro vaticano anche se lo stato della vaticano non fa parte della comunità europea come vi ricordate se avete visto la lezione su san marino anche san marino all'euro san marinense ma non appartiene alla comunità europea quindi hanno la moneta ma non appartengono e la utilizzano ovviamente si sa sono due territori tanto piccoli che farebbero fatica a sviluppare a coniare una propria moneta quindi devono essere sono rimasti diciamo accorpati inglobati nell'economia dello stato nel quale sono sono inclusi che in questo caso è l'italia bene questa è stata una breve descrizione sul città del vaticano riguardatevi se volete la lezione sul risorgimento perché vi dà alcune descrizioni fra le relazioni fra italia e il papato la città e cioè la città del vaticano come sempre vi ringrazio vi chiedo un like un seguimi sul canale ci sono lo dico ogni tanto ci sono 182 lezioni prima di questa abbiamo parlato di tantissimi argomenti andateveli a scoprire ci saranno novità perché stiamo sviluppando nuove categorie nuovi argomenti perché ovviamente questa lezione della città del vaticano insieme a san marino in qualche modo fa parte delle 20 regioni italiane siamo partiti dalla valle d'aosta siamo arrivati alla sicilia sardegna ma abbiamo aggiunto questi due piccoli stati che sono molto importanti per l'italia perché un po in qualche modo ne fanno parte vi ringrazio per i vostri commenti per le vostre per le vostre attenzioni e per le vostre per il vostro interesse nel nel canale se ci sono domande fatele e noi faremo il più presto e il più il meglio possibile per rispondermi ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti ciao ciao ciao